Ciao a tutti ragazzi, io sono Carly e questo è ovviamente Cimia Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo di nuovo qua con StumbleGuys e con una challenge impossibilissima E oggi vediamo se riuscirò a farla L'ultima volta, se ben ricorderete, abbiamo vinto questa skin speciale e adesso le ho ufficialmente tutte, sia quelle leggendari che quelle speciali Spingiamo la ruota dei primi gratis e in base al colore che verrà fuori, non dovremo toccare quel colore nella mappa In questo momento uscirà... ah, il viola! Allora, in realtà abbiamo tre spinnate da fare, quindi volendo possiamo fare che questo è per la prima partita Il prossimo sarà per la seconda e il terzo colore sarà per la terza partita, vediamo Adesso esce il colore, il colore, il colore, il colore Verde, ok, abbiamo il viola e il verde E vediamo quale sarà l'ultimo colore Sarà impossibilissimo evitare questi colori Se lo provate anche voi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti se ci siete riusciti, io non so cosa aspettarmi È l'azzurro, ne abbiamo tutti Se te col viola esplodo, no, nel senso perderò questa challenge però almeno cercherò di vincere la partita Mi va di lusso, mi va di lusso Mi basta non toccare questi cosi viola che ci sono sopra quelli pezzi di gomma lì e siamo a posto Ok, molto semplici, per fortuna non è venuto fuori l'azzurro in questa mappa perché sennò sarebbe stato un totale disastro Ahah, cosa è successo? Olè! Secondo posto! Grazie, grazie, questa è stata molto semplice Il prossimo colore da evitare è il verde Ci deve capitare... non ci credo Non ci credo! Perché mi è capitata questa mappa? Come faccio a evitare il verde qui? Cercherò di stare... no, vabbè, è impossibile questa ragazzi, ma come si fa? È difficilissimo ragazzi, non si può! Allora, io resto qua, voi venite qua No, perché mi sono fatta scoppiare? Cosa è successo? Ah, è impossibile, è impossibile ragazzi, è impossibile Uh, sono volati d'acqua! Questa challenge qua ragazzi è totalmente infattibile Voilà, voilà! Gli ho buttati d'acqua due, non ci voglio mai credere! Gli ho buttati d'acqua insieme Vabbè, qua ragazzi la challenge è completamente andata Mannaggia Nella prossima partita il colore da evitare sarà l'azzurro Come fai a fare sta challenge? È tutta azzurra qua la mappa! È impossibile! È una cosa incredibile Qua se fosse venuto il viola sarebbe stato perfetto Perché non avrei dovuto sbattere contro i buretti! Sono caduta Ok, facciamo un cambio di programma Facciamo che in questa mappa, siccome è tutta azzurra, sarebbe impossibile Non posso toccare il colore viola Oh, permesso Ok, devo aspettare che passi questo buro Ok, non l'ho toccato Non l'ho toccato Andiamo Ok, e adesso qua ci sono queste barre viola Non le devo assolutamente toccare Neanche questo colore Uh, salto Salto Uh, l'ho toccato per un pelo Non ci credo Non ci credo Possiamo evitare anche qua il viola Basta solamente che non vada a sbattere qua contro Ok E basta solamente che io non caschi qua Credo sia fattibile Olè Saltino Fatto Non devo toccare questo Non lo devo toccare Non l'ho toccato Non l'ho toccato Saltino qua Saltino qua E voilà No, no, no Non posso toccare neanche qua il viola Questi schizzini qua Non si toccano Saltino Uh, il pancarre Io odio questo Allora, questo Ecco Te pareva Te pareva Che io non cadessi Allora, devo cercare Il Questo Uh, che pelo Che pelo Io quella del pancarre Non la so fare Comunque Sono riuscito a evitare Il colore viola Dove è possibile Si può fare E adesso Siamo in finale Vediamo quale colore Possiamo evitare Oh Potrebbe venire fuori Anche qua Una cosa carina Per evitare Il viola Uh Ok Qua non devo toccare Assolutamente Questo viola Voilà Via Allora, devo fare Super attenzione Alle sbarre Viola Che si vedranno Tra poco L'eccola lì una Salto Ok Schivata Per fortuna Salto No L'ho presa in pieno Porca miseria Uh Qua ci sono Le frecce viola Purtroppo Non posso farci nulla Ho preso in piede La barra viola Mannaggia Qua c'è tanto viola Uh Non ci credo Ah All'ultimo Stavo per dire È stato troppo Troppo facile Preva qualificata Anche se la challenge Dei colori Ragazzi È veramente Veramente Difficile Sapete quale colore Ancora non è venuto fuori Il giallo Quindi Oh Ho un attimo Delle cose A riscuotere Quindi io propongo Di spinnare La ruota Che è sicuramente Qualcosa di leggendario Ci verrà fuori Speriamo eh Speciale No non ci credo Cioè sarebbe stato totale Avere Avere quella speciale Epica Dai la leggendaria Per favore Oh Ecco Per fortuna E adesso si può giocare Alla challenge Del colore giallo Andiamo subito Ok Ok Penso di potercela fare Qua basta solamente Andare nei lati Che sono azzurri E non toccherò il giallo Ok mi va bene Andare qua in basso È una zona safe Perfetto Qua passiamo da questa parte Non lo tocco Oh Non lo tocco Ok Qua è inevitabile Devo per forza Prendere il giallo Aspetta a meno che Non passi qua sopra No È impossibile Devo per forza Prendere la piattaforma gialla Ok ci siamo Ci siamo E sono la seconda Anzi la prima Qualificata Ok In certo occasione Veramente È impossibile Evitare il giallo Come in questo caso Però ce l'abbiamo fatta È abbastanza fattibile Ok Qua il giallo Ce n'è pochissimo Basta solamente Che io non vado Sui tappeti Tu via No Non farmi andare sul giallo Sono andata sul viola Saltino Posso prendere questa Non c'è nessuno qua Salto Non tocco il giallo Salto Ok Posso rubare questa bandiera Ce la posso fare Ok 5 bandiere No Mi ha fatto volare in acqua Ok Ok siamo in vantaggio Perfetto Perfetto Posso andare E prendere quella là Posso andare Non tocco il giallo 7 bandiere No Non fatemi volare in acqua Perfavore C'è una bandiera Che è libera Quella là Forse Quella là dietro No Non ci credo Stiamo perdendo all'ultimo Stiamo perdendo all'ultimo Posso andare a prendere questa No Abbiamo perso all'ultimo Non ci voglio credere Mannaggia Mannaggia Beh ragazzi Spero ovviamente Che questo video Vi sia piaciuto Fare la challenge Dei colori Qui su stumble guys È veramente Veramente impossibile Ma Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se voi siete riusciti a farlo Da carli da cibi Tutto Noi ci vediamo prossimamente Con un altro video Ciao